bella rega bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale oggi ragazzi è un video un attimo diverso vi voglio spiegare cosa sta succedendo sul canale ragazzi passerò praticamente tutti i video che ho fatto in bif per gli abbonati pubblici per più questo ragazzi perché ho notato veramente un afflusso molto basso per questa tipologia di video per gli abbonati quindi per avere veramente pochi abbonati che guardano quella tipologia di video allora ho deciso di farli vedere a tutti i ragazzi ciò perché dopo gli ultimi casini che sono successi non sto a precisare se volete sponciate nel canale ho deciso di portare questa tipologia di video pubblica ok perché perché raga chi si abbona e chi mi vuole supportare alla grandissima lo fa non per un secondo fine non per ricevere qualcosa ma lo farà per supportare me e il canale ragazzi quindi ora vi spiego cosa succederà da oggi in poi finché non finiranno i video posterò tutti i video in bif che ho fatto per gli abbonati mentre per gli abbonati raga farò dell'altro quando avrò voglia porterò dei video dedicati a loro porterò un qualcosa esclusivo per loro e non è detto che sia roba di gta 5 ragazzi questo perché perché come ho detto prima a questo punto chi sarà rimasto abbonato chi si abbonerà lo farà per il piacere di farlo per il piacere di guardare savix di supportare questo canale quindi io potrei ricambiare con qualsiasi tipologia di video ok simpatico o meno utile eccetera a questo punto in questa settimana ragazzi vi avviso che c'è il sito in creazione di savix modificheremo youtube metteremo tutte le varie moji personalizzate eccetera eccetera e alla fine di questo mese ritorniamo con le live regolari quindi ragazzi se avete bisogno di spiegazioni o avete bisogno di aiuto non esitate a contattarmi senza approfittarvi ne raga perché ora vi spiego anche questo chi si abona al primo livello ha la possibilità di avere risposte praticamente istantanee sui commenti telegram instagram a meno che non sono seduto successo sono c'è qualcosa che a voi quindi invece chi si abbonerà al livello 2 ragazzi avrà una cosa in più potrà entrare in parti con me in gruppo che sia magari potremmo fare qualche cosina insieme se hai bisogno di una macchina gliela do senza problemi invece chi si abbonerà a livello 3 ci sarà una sorpresa fuori dal comune non vi sto a precisare cosa perché è una cosa un pochettino raga che bisogna vedere se il budget lo permette ma se sta cosa va in porto è una bomba quindi vi lascio con lo stuzzicchino nella testa in questa settimana metterò tutti i puntini sulle i farò un video dove aggiornerò gli abbonamenti e tutto il resto io spero che il video vi è piaciuto lasciate un like se è così condividete commentate e alla prossima bella rega spada bam ciao